È molto bello vivere il personaggio perché Silvana è una persona molto seria come persona cioè io gli do l'anima, il corpo, però alla fine lo sappiamo che attraverso gli autori di quello che ci descrivono noi interagiamo e Silvana è una persona comunque che ha un cuore molto nobile però è molto tranquilla, però non si fa mettere i piedi in testa Allora Silvana mi somiglia un 50% perché io rispetto a Silvana reagisco molto di più Silvana si contiene di più anche per tenersi il porso di lavoro, per guardare un po' gli interessi sui personali però quando arriva al clou fa vedere chi è lei e questo mi piace, questo mi somiglia quando lei esplode mi somiglia di più Ho iniziato nel 2007, ho studiato prima teatro, poi successivamente con vari spettacoli ho anche fatto un musical con il giardino ad esempio Il mio personaggio è molto legato a Ferri, io quindi essendo la cameriera di Ferri sono legata a lui e ci sono il momento in cui c'è lui Silvana non c'è ancora una vita personale, quindi non saprei dirti però mi farebbe anche piacere un po' che si parlasse anche di quello che oggi ormai si circonda vedi che oggigiorno muoiono un sacco di persone con questa brutta malattia e quindi è una tematica che si è parlato già un po' sta sulle mani e dietro quindi se riparlerebbero mi farebbe anche piacere anche su questo